Dunque, oggi la Francia torna alle urne dopo una settimana per i ballottaggi che ridisegneranno la nuova Assemblea Nazionale. C'è un clima in Francia di grande tensione. La prossima settimana Ursula von der Leyen vedrà a tutti i gruppi parlamentari in occasione e in preparazione soprattutto della plenaria del 18 di luglio. Tutto questo, anche questo, ma non solo, con i nostri ospiti. Saluto e ringrazio per aver accettato il mio invito, l'onorevole Gaetano Pedulla del Movimento 5 Stelle. Onorevole, ben ritrovato. Buona domenica. Grazie, Lavinia. Buongiorno a tutti. Buona domenica. E poi c'è, onorevole Pedulla, parto da lei, anche l'interlocuzione aperta in questa settimana con il gruppo europeo di The Left, al quale aderirà il Movimento 5 Stelle, con tutti quelli che sono i punti di contatto tra le vostre priorità in agenda Europa e quelle del gruppo che vi accoglie. Lei in prima persona si è speso in tal senso per cercare di capire quale possa essere l'agenda comune da qui ai prossimi mesi? Allora, partiamo dall'inizio. Rispetto a quanto è stato detto, c'è una piccola modifica. Von der Leyen ha espresso l'intenzione di incontrare tutti i gruppi parlamentari, tranne due, cioè l'estrema destra e The Left. Quindi non è in programma, anche perché l'orientamento che emerge, ora ascolteremo Von der Leyen quando verrà a spiegarci il suo programma per i prossimi anni da Presidente della Commissione, ma da quello che è emerso, dallo spoiler che è emerso dalla cena del Consiglio europeo, la sua intenzione è quella di creare un fondo, esattamente come fu fatto per il Recovery Fund, per il New Generation U, un fondo da 750 miliardi fu all'epoca a debito. Adesso l'idea è di fare qualcosa di simile, più di 500 miliardi di euro a debito, per finanziare missili, bombe e cannoni. Dunque noi, Movimento 5 Stelle, che siamo totalmente contrari a questa deriva bellicista su questa roba, non ci stiamo. Quindi se Von der Leyen ha queste intenzioni può fare benissimo a meno di venire a spiegarci cosa vuole e a chiedere i nostri voti. Seconda questione, il Movimento 5 Stelle non è come vedo passare nella sovrimpressione qui sotto lo schermo in prova in The Left. Abbiamo stabilito, così come è stato fatto con altri gruppi che sono entrati in The Left prima di noi, abbiamo stabilito una prassi quindi di darci un periodo di reciproca conoscenza, perché quando si entra in un gruppo parlamentare è buona regola conoscersi anche personalmente le persone, anche personalmente sui temi specifici che vanno, come dire, da quelli centrali a quelli più periferici. Noi sui quattro temi centrali... Diciamo, è una prova reciproca, è una prova reciproca. La parola giusta sarebbe una conoscenza più approfondita e reciproca, perché vedete siamo in perfetta sintonia sui temi della pace, sui temi del welfare, sui temi dell'ambiente e aggiungo su un altro tema che per noi tutti è estremamente importante, fermare questi fascismi, nazismi, nazionalismi, sovranismi che stanno cavalcando in tutta Europa. Oggi abbiamo le elezioni in Francia, aspettiamo di vedere l'esito e vediamo di vedere se ha anche la capacità di comprendere che questo è un rischio fortissimo per l'Europa del futuro, se si riesce in fronte nazionale ad arginare quello che nel primo turno abbiamo visto un grande successo delle destre e destre estreme. Onorevole Pedurale, faccio vedere questa analisi a proposito di quelle che poi sono le priorità per chi va a votare, forse anche per chi non ci va evidentemente, visto che nel nostro paese siamo sotto la soglia del 50%, sanità, lavoro, le priorità degli elettori da Parigi a Roma. Per quattro cittadini su dieci le condizioni finanziarie sono un problema, al 33% lamenta scarso accesso alle cure, insomma il tema della sanità è un tema che vi ha anche visto ricompattati anche con il Partito Democratico, ma è uno dei temi, anche quello dei diritti, per la verità nelle ultime settimane abbiamo visto la scorsa domenica c'era da noi la presidente di regione Sardegna Alessandra Todde che aveva il giorno prima partecipato al Pride, tema dei diritti, tema della sanità in una sorta di, non chiamiamolo campo largo, ma puntini sospensione, vi vedo insieme anche sul tema delle autonomie della presentazione del quesito referendario. Esattamente questo poi è il tema, cioè portare ai cittadini risposte e sostegni concreti. Per farlo è necessario, come dire, stabilire anche in Europa, forse direi partendo dall'Europa e dalle direttive e dalle indicazioni che potranno nascere in futuro, le condizioni migliori perché questo accade. Vede, noi ci stiamo complicando la vita in Italia con un grande voto di scambio che è in corso tra Fratelli d'Italia e Lega, il premierato contro l'autonomia regionale differenziata. L'autonomia regionale è un concetto che il Movimento 5 Stelle, per esempio, ha sposato raccogliendo, contribuendo a raccogliere le firme nei referendum regionali di qualche anno fa in Lombardia e in Veneto. Ma il tema è come si applicano poi queste riforme. Se le si applicano in modo propagandistico, cioè a costo zero, stabilendo prima la riforma e dopo la definizione dei livelli delle prestazioni o soprattutto non mettendo un euro nel fondo per equativo che consente alle regioni con meno capacità di contribuire al PIL nazionale, di avere quelle riserve economiche senza le quali si chiudono gli ospedali, si interrompono i trasporti, si negano servizi ai cittadini. È chiaro che stiamo semplicemente aggravando una situazione che oggi tutti i cittadini da sud e nord ci denunciano di grande arretratezza su molti servizi. Dunque noi dobbiamo, come dire, creare le condizioni positive. Il Movimento 5 Stelle in Europa, anche con la nuova collocazione in The Left che ci dà più forza per esprimere la nostra idea politica, sta cercando di spingere le politiche espansive, cioè dare risorse alle imprese, alle piccole imprese, ai cittadini, a chi è rimasto indietro. Mentre quello che ci arriva dalla von der Leyen, che è espressa dal Partito Popolare Europeo, io vorrei sapere su questo, Don Evo e Salini, come può giustificare questa cosa. Le politiche che ci stanno portando verso un arretramento economico, una austerità che ci chiede quel modello di Europa, quelle aggravano tutte queste cose. Dunque, su questo punto qui è un nodo di fronte al quale bisogna mettersi da una parte e dall'altra. E oggi io vedo il PPE, come dire, spinto da un'enfasi di poltrone, da un'enfasi di potere, sostenere quella che è la ricetta peggiore per il futuro del nostro paese e dell'Europa tutta. Onorevole Pedulla, sul tema del Green Deal, diciamo che il risultato uscito dalle urne ci dice questo, che sono state penalizzate in parte in Europa tutte quelle politiche che in tal senso su quei temi ponevano un accento forte. Abbiamo visto che poi il risultato non è stato molto molto felice per questo tipo di politica. Certo, certo. Dal nostro punto di vista questo è dovuto a una rappresentazione mediatica assolutamente sbagliata, assolutamente difforme dalla realtà dei fatti, dove si crea lavoro e occupazione proprio nella filiera dell'industria green, nella transizione energetica, nei pannelli fotovoltaici, nelle batterie, tutte cose sulle quali noi abbiamo lasciato ad altri paesi, in particolare la Cina, il monopolio, pur avendole create noi queste cose. I cinesi sono venuti in Italia, hanno copiato il nostro know-how, soprattutto in regioni come la Lombardia, il Piemonte e hanno realizzato loro facendo loro i guadagni. Nel futuro l'industria del fossile, del motore termico, sarà sempre meno produttiva, sarà sempre quella dove si continuerà a licenziare come è oggi anche in Italia nel nostro comparto e l'automotiva. Allora il tema è, vogliamo anticipare il futuro e rafforzarci dove si creerà occupazione o vogliamo difendere i soliti noti, coloro i quali stanno ancora completando di guadagnare qualcosa dall'industria tradizionale, quindi rifiutano di cavalcare quello che verrà, il futuro che sarà. Tutto qui è il tema. Noi su questo argomento ci siamo scontrati con una retorica che ha raccontato di una svolta verde che penalizza le imprese. Non è, è proprio il contrario. La svolta verde aiuterà le imprese che capiranno tutto questo, tant'è vero che anche i grandi gruppi dell'automotive si stanno pure in Europa e pure, come dire, persino le derivazioni italiane si stanno, come dire, convertendo. Abbiamo visto la Ferrari creare il nuovo grandissimo stabilimento che fa le automobili, le Ferrari elettriche. Vogliamo restare con quell'idea di rifiuto del green? Le forze politiche che lo fanno si assumeranno, si assumono la responsabilità. Grazie mille onorevole Ipedullà per averci fatto compagnia in questa mezz'ora di dibattito domenicale. Grazie davvero ad entrambi. Arrivederci. Buona domenica a tutti.